Bene, comincia un altro livello di Kingdom Hearts 2, i parallelli accesi, subito, praticamente questi vogliono far saltare in aria la nave. Una testa ha cercato di fare scodere un bambino, l'otto, oh mio dio, succhiatemelo! Va bene, basta andando, ok intanto salviamo. Ah, parata, mi hai fatto male. Impara a sparare amico, ahia, ahia, diciamo che ha imparato abbastanza bene. Mai detto. Ancora fatto male, il quale il quale il quale. No Jack Sparrow, capitale Jack Sparrow. hai rotto il pene ahia ah sei morto meno male ah l'ho aperta va bene guarda questo ti ho bruciato il sedere maledetto oh mio dio maledetto infame vieni qua vieni qua apriamo app più abilità oggetti no non vedo il carro app più anzi vabbè abilità qui ok possiamo andare pivelli pivelli ok ok mi equipaggio mi equipaggio dopo adesso non c'ho voglia ah peccati questo ok che mi equipaggio 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 il posteriore mi equipaggio hai detto mio amor muori ai apre non potevo perdere quel modo 2 asparra mai detto 4 coppia faiac hai fatto bene ma io penso che non vuole a spararmi grazie papilini ok dopo averne preso un casino no ho sbagliato ok ora abbiamo fatto giusto ok boss barbarossa combatti combattiamo tu puoi fuggile del giudizio questa è una nuova fusione come di questo prendi questo ma hai detto me la aiuto parliamo combatti prendi questo no era in modo intervincibile maledizione dannazione a mi stai facendo venire il mal di testa combatti po vediamo il passo di un ms lo stupor solico avrò con usato tutto ok ora sei duomo mortale ecco ecco fa più bello dove sei ecco quante volte vuoi morire però se vuole lento appare 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 potuto utilizzare un comando razzo no maledizione risposta risposta gemella prendi questo altra fusione del giudizio avanti per parola attività per tutto attività per 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 ma conteggia bellissimo no non lo sapevo morto colpo di fulmine barbarossa ma poche figuraccia a fallire prima quanto ho fallito prima dunque vera entretti barbarossa ok beh allora basta così che noi ci siamo pari Jack quante volte te lo devo dirtelo vedete finchè poi barbarossa ti ha fatto male sento freddo e qui con fin e qui terminiamo con la morte di barbarossa e qui terminiamo con la morte di barbarossa bene bene procedi guard mi faccio prima anzi no andiamo qui anzi prima ancora devo allora sblocco questa rotta non perché voglio andare nel mondo di a di aria la fatta c'è l'istituzione di si